La legge toglie la necessità di una giusta causa per il licenziamento che abbassa i prezzi, che abbassa i costi dei salari una legge che toglie persino l'obbligo di insegnamento per l'apprendistato come se non fosse abbastanza surreale e questa legge è stata permessa proprio grazie a un dispositivo come Expo 2015 Grazie 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 Grazie